Care studentesse, cari studenti, la nostra laurea magistrale in scienze tecniche della comunicazione è cresciuta in questi anni sia sul piano delle immatricolazioni sia sul piano dell'arricchimento dell'offerta formativa. Quest'anno per la prima volta abbiamo introdotto due percorsi curricolari distinti, comunicazione di impresa istituzionale e politica, promozione e comunicazione dei beni culturali e archeologici, i quali consentiranno di creare figure professionelle ancora più definite e interessanti per il mondo del lavoro. A ogni studente resta comunque aperta la possibilità di costruire un percorso di studi personalizzato sulla base dei propri interessi e delle proprie aspirazioni.